ben tornati bentornati sul canale abbiamo avuto delle riscontri a livello di gestione a livello di qualità a livello di competenze in relazione ai nuovi vecchi nuovi compiti per beppe marotta ormai lo sappiamo marotta il nuovo presidente ci sono stati dei nuovi ingressi nel consiglio d'amministrazione nero azzurro alcuni sono stati confermati nei loro ruoli nei loro posti di comando come ad esempio antonello come ad esempio zanetti e poi ci sono stati dei nuovi ingressi chiaramente scelti decisi da octri uno dei punti nodali per quanto riguarda la nomina a presidente di marotta era appunto quello di capire un po quale sarebbe stata la differenza con l'operatività finora ricoperta quella dell'amministratore delegato lato sport poi c'è quello lato corporete che invece aspetta appunto ad antonello ecco si sta cominciando a far luce sulle sui ruoli sulle deleghe e anche sulla diciamo possiamo chiamarla sulla sulla sul raggio d'azione ecco sul raggio del nuovo presidente nero azzurro perché perché uno degli obiettivi a mio parere è anche era anche quello di snellire un po la catena di comando abbiamo passato anni ad aspettare l'ok di zang abbiamo passato anni ad aspettare l'ok dalla cina non vi nego che alcune operazioni sono si sono trascinate più a lungo del previsto addirittura sono sfumate proprio per queste lungaggini per questa appunto catena di comando a volte sembrava infinito e questo in un in un ambiente come quello soprattutto del calciomercato nel quale richiesta anche la tempestività può essere un handicap non di poco conto per quello che c'è da sapere il mandato non è cambiato a livello operativo per beppe marotta è presidente resta amministratore delegato lato sport e quindi le deleghe sono le medesime è chiaro che avrà più a proposito di raggio d'azione avrà sicuramente più margine e potrà interloquire avere un contatto più più diretto con i suoi sottoposti da questo punto di vista più più che più diretto più immediato ecco potrà fare da cuscinetto più immediato tra la proprietà e i suoi sottoposti il margine per le operazioni finanziarie dovrebbe restare quello di 20 milioni di euro quindi da 20 in poi servirà comunque il il bene placido del della della proprietà quindi di octree c'è da dire che però qui cambiano e sta qui la grande novità qui cambia e non poco l'interlocutore perché come vi ho sempre raccontato si vengi anche era presidente dell'inter fatto ottime cose però doveva sempre rispondere a qualcuno al di sopra di lui che fosse il padre che fosse addirittura proprio l'autorità massima della repubblica popolare cinese e quindi va da sé che i tempi si allungavano e diventava a volte far a volte spesso diventava farraginoso e difficoltoso il percorso dei dirigenti nerazzurri ecco invece il contatto adesso è molto più diretto tra marotta e la proprietà la proprietà è molto più presente e superata questa fase di diciamo di di mosaico per quanto riguarda l'amministrazione ordinaria adesso si comincerà con l'amministrazione straordinaria quindi tutto rinnovi il mercato eccetera eccetera ma già si è capito che octree vuole essere presente sia logisticamente quindi fisicamente sia come sia a livello mediatico quindi come comunicazione e come operatività e questo chiaramente accorcia i tempi e da una possibilità notevole in più a marotta e a tutti gli altri dirigenti di portare di chiudere operazioni di calcio mercato ma non solo ed è un vantaggio non da poco non da poco perché se pensate a tante a tante difficoltà che sono nate negli ultimi anni soprattutto quando suninga aveva delle diciamo delle deficienze a livello economico beh la dice la dice lunga e questo è un cambio è un cambio di rotta è una sterzata non banale secondo me non banale per una macchina comunque già avviata perché non dobbiamo dimenticare che comunque la conferma del management non è un qualcosa di scontato quando subentrano la proprietà ma in questo specifico caso è la perfetta fotografia dell'ottimo lavoro svolto nel corso degli anni perché finché ce lo dicevamo fra di noi però non sei a conoscenza delle dinamiche interne e quindi puoi solo dedurre dai risultati che si vedono no invece se una proprietà differente rispetto a quella passata conferma tutto tutta l'impalcatura di un club ambizioso come quello dell'inter e allora vuol dire che quelle percezioni quelle sensazioni che si hanno anche dall'esterno anche per noi che comunque lavoriamo e siamo a contatto no con anche diretto con con degli esponenti della società inter è una riconferma di quanto appunto si poteva dedurre immaginare e piccola escursione ieri ho ascoltato più che ieri poi ho recuperato un po' più tardi ho ascoltato le notizie le ultime notizie di mercato e da un lato c'è un lukaku che cerca che cerca una nuova squadra e addirittura adesso si starebbe facendo sotto il milan fermo restando che conte magari potrebbe avere l'idea di portarlo a napoli in sostituzione di osimente si è andata alla partenza e ma spunta anche l'ipotesi milan non lo so che ne pensate voi non me sarebbe sarebbe curioso e anche stimolante trovarsi lukaku con la maglia rossonera dopo le sue famigerate dichiarazioni a juve milan non andrò mai e sarebbe veramente uno stimolo in più per i ragazzi di inzaghi poi se fate il nome di indoe per quanto riguarda noi del bologna per quanto riguarda l'eventuale sostituto di denfris a destra mi è sembrato un po' azzardato francamente indoe è un è un esterno alto vederlo quinto a tutta fascia a destra magari con di marco a sinistra non lo so francamente non lo so ma non nella la voracità che aveva per esempio perisic no negli ultimi negli ultimi anni di inter decatleta ma poi anche fisicamente pur quando giocava davanti tu lo vedevi che era uno che anzi più partita di repubbio poteva addirittura risultare pericoloso e pare diventava una certezza anche in fase difensiva non lo so mi sembra veramente un nome non dico buttato lì perché non mi permetterei mai di andare a sindacare sulle fonti di altri soprattutto se questi altri sono comunque apprezzati e apprezzabili colleghi intendo ma non lo so così come mi sembrava strano e hermoso visto come un profilo da centrale una difesa tre e non braccetto così mi sembra un po strano un doia tutta fascia a destra ci sono altri profili secondo me farebbero al caso dell'inter altri profili che farebbero molto molto bene secondo me 3 5 2 di inzaghi io ve l'ho detto su gavara e dedic di quelli fatti sono per mio gusto migliori ma si trovano degli esterni anche futuribili anche futuri si trova non andrei su lazari di lorenzo andrei più più su bambissaga lasciamo stare andrei più su un altro tipo di di profilo ma ci sarà ma ci sarà tempo sto preparando il frattempo per l'estate oltre chiaramente approfondimenti anche sugli europei sto preparando altro materiale qualche intervista in più se c'è la disponibilità degli intervistati e stasera live con victor gli amici di forza inter brasil ore 21 italiane mi raccomando chi vuole seguire sa che mi troverà sul canale forza inter brasil un saluto